ciao sono silvia zanotti service e project manager di berit in questa tecpil parleremo di sostenibilità tecnologica e certificazione isg nel dettaglio parlerò di che cos'è la sostenibilità tecnologica e perché è importante conoscere le caratteristiche e parlerò delle certificazioni isg e i vattaggi che portano alle aziende l'uso della tecnologia per ridurre l'impatto ambientale sulle attività umane è un concetto fondamentale della sostenibilità tecnologica con sostenibilità tecnologica si fa riferimento all'uso della tecnologia per ridurre l'impatto ambientale delle attività umane la riduzione dell'impiego di risorse naturali l'emissione del gas serra e i rifiuti non riciclabili sono gli obiettivi della sostenibilità tecnologica una tecnologia sostenibile rispetta i principi della sostenibilità ambientale conservazione delle risorse naturali evitare sprechi e rifiuti utilizzando le risorse naturali in modo efficiente riduzione dell'inquinamento mirare a ridurre l'inquinamento del suolo dell'acqua e dell'aria uso di fonti rinnovabili utilizzare energia alternativa quali energia solare eolica idroelettrica per evitare di utilizzare i combustivi di fossili promozione dell'economia circolare la tecnologia sostenibile deve promuovere un sistema economico che si basa sul riutilizzo sul riciclo dei materiali sull'economia dei servizi e sulla connettività tra aziende stakeholder e governi per ampliare la circolarità dell'economia con sinergie e soluzioni condivise vediamo ora quali sono le caratteristiche di una tecnologia sostenibile una tecnologia per essere sostenibile deve avere tre caratteristiche principali deve essere efficiente ovvero ridurre al massimo gli sprechi ripetibile ovvero progettata per essere applicata più volte per avere un impatto ambientale tendente allo zero riciclabile ovvero che i materiali possono ritornare nel ciclo produttivo più volte e sotto varie forme fino a quando non si esaurisce il loro ciclo di vita progettare utilizzare tecnologie sostenibili può influire in maniera positiva sul rapporto tra l'ambiente e le attività umane la tecnologia sostenibile può ridurre l'inquinamento e può migliorare la qualità della vita dei singoli cittadini infatti la conservazione delle risorse naturali e la promozione dell'economia circolare favorisce un aumento dei posti di lavoro e la crescita economica con rispetto dell'ambiente un'etica rispettosa dell'ambiente e della qualità della vita portano sempre più aziende a fare propri principi ISG ISG sta per environmental social and governance ambiente sociale e gestione d'impresa queste sono le tre aree in cui l'azienda adotta le proprie politiche in materia di ambiente poiché l'azienda si focalizza a minimizzare l'impatto ambientale sociale poiché si incentivano diversità e inclusione governance per una gestione trasparente dell'azienda la certificazione ISG rappresenta un punto d'arrivo per l'azienda che vuole confermare i propri impegni in materia di ISG quindi in materia ambientale in materia sociale e in materia di governance questa certificazione aiuta il posizionamento verso un mercato sempre più sensibile ai temi della sostenibilità anche qui in Berit abbiamo a cuore i temi della sostenibilità e abbiamo ottenuto la certificazione Synergy la certificazione Synergy consolida l'impegno che Berit sta mettendo in campo per quanto riguarda l'ambiente il sociale e la governance continueremo a rinnovare il nostro impegno per minimizzare l'impatto ambientale mantenere il nostro coinvolgimento sociale e assicurare la trasparenza nelle nostre pratiche di governance abbiamo quindi visto come la tecnologia sostenibile possa influire sulla relazione tra uomo e ambiente inoltre la certificazione ISG aiuta il posizionamento delle aziende verso un mercato sempre più sensibile ai temi della sostenibilità